Nel libro degli atti degli Apostoli abbiamo una bella pagina programmatica della Chiesa delle Origini. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Le caratteristiche della Chiesa delle Origini, ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, mediante la riflessione sulla predicazione degli Apostoli, i credenti prendevano coscienza che il progetto proposto da Gesù deve impegnare tutta la loro esistenza per la realizzazione del Regno di Dio. Questo punto può lasciare un pochettino perplesso, però noi giudichiamo con la nostra cultura di oggi, nostra, che è frutta di secoli. Noi parliamo dei primi tempi della Chiesa quando i primi cristiani facevano i piccoli passetti per capire qual era la finalità del battesimo e come bisognava viverlo. L'unione fraterna per la costruzione del Regno è necessario rifiutare la dinamica della Torre di Babele. Ricordate la Torre di Babele? Molto semplice a spiegarla. Ognuno faceva il comodo proprio, chi si prendeva il cemento, chi si prendeva i ferri, chi timbrava i cartellini e non andava a lavorare, eccetera. Torre di Babele. Questo non è possibile e quindi invidia e accogliere l'amore che ci unisce. I cristiani devono essere uniti tra loro come membri di uno stesso corpo, Cristo, la frazione del pane. Presse gli ebrei, il padre di famiglia, usava a prendere un pezzo di pane, invocare la benedizione, spezzarlo e distribuirlo. È quello che fece Gesù nell'ultima cena. Geste che i primi cristiani continuarono a fare come memoriale della Pasqua del Signore. Questo cammino di fede dei primi discepoli, unite nella preghiera di lode e di ringraziamento, a cui farà seguito il riferimento della Chiesa nel cammino dei secoli. Un cammino pesante che la Chiesa deve affrontare come si deve affrontare il peccato e compatterlo. Lo Spirito però li aiuta e assicura che le porte degli inferi non prevarranno. Sulla esemplarità del Cristo umile e sofferente, Dio per la Chiesa sceglie uomini poderi, umili. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto che nel mondo è debole per confondere i forti. La Chiesa è una realtà visibile e spirituale. Per rendere duratura l'opera della redenzione, Gesù fonda la Chiesa nella quale i fedeli vivranno uniti nell'unica fede e del medesimo amore. Gesù Cristo predica il regno di Dio, giustizia, amore, santità, che ha pieno compimento nei cieli. Cristo vuole istituire una nuova comunità religiosa. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Nel termine mia, la mia Chiesa, mia, è chiaro il distacco dalla sinagoga ebraica. Negli ultimi incontri alle caratteristiche della Chiesa abbiamo una comunità di accoglienza e di perdono. Attenzione al piccolo, al debole, per nominare la fede, andare in cerco della pecorella smarrita, perdonare sempre e per formare una comunità. Stile di vita della comunità, comportamente oriamente o improntata alle beatitudini, accoglienza pratica della parola di Dio, preghiera e vigilanza in attesa della venuta del Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.